Super Daga 2023 coltello versatile ed adatto per tutti i tipi di lancio con impugnatura da lama. Ora do alcune dimostrazioni. La lama da tre metri da 5 metri con impugnatura da manica. Ora do alcune dimostrazioni. Aggiungere i tipi di lancio con impugnatura da manica. Aggiungere i tipi di lancio con impugnatura da manica. Aggiungere i tipi di lancio con impugnatura da manica. Grazie per la visione! Grazie per la visione!